e siamo giunti all'altro clou innanzitutto la Fiorentina appareggiata in Estremis quindi Palombe contento insomma e questo clou secondo del pomeriggio un miglio quattro anni e oltre dove Steven è il favorito ma anche Ruvara Rendeni arretrato Sonia Jet e Ruvara Rendeni via la macchina in velocità chiusura si lotta per il comando con Steven De Ronco che prosegue nel suo sforzo prevale su Siento all'attacco della piegato l'inserimento di Scoop Griffi Italia lancio nell'ordine del 13 e 2 e così uno dei più gettonati l'errore intanto di Rivarco si va al completamento della piegata e anche dei quattrocento iniziali in ventotto e sette Steven quindi sul Siento a largo gradatamente risale l'alternativa Ruvara Rendeni che va al Salchi di Steven che chiaramente allunga 43 tondo da 1 11 e 7 si viaggia Steven Ruvara Rendeni Siento Scoop Griffi Italia che va lì al completamento della piegata anche del mezzo miglio in 58 e 2 di una frazione in 15 e 2 e Steven sempre con una di margine con Ruvara Rendeni generosamente al Salchi si va a timbrare il chilometro in 1 12 e 4 14 e 2 di frazione allunga disinvolte il targato Ronco e mantiene il comando per il momento non è stato mai impensierito Ruvara Rendeni scende per riprendere fiato lunghi birilli 13 e 9 1 26 3 3 quarti di miglio Steven ha in vantaggio poi Ruvara Rendeni e Sir Drake retta d'arrivo Steven allunga mantiene il comando vuole migliorarsi anche Cromano naturalmente viene via Sir Drake ma Steven parla un'altra lingua mentre Sir Drake è buon secondo nei confronti di Ruvara Rendeni 1 55 e 4 chapeau doppio nel pomeriggio della minopolimania 1 12 e 1 si migliora questo ennesimo Ronco mandiamo i saluti a Marelli che riesce a produrre veramente cavalli di alta qualità e Minopoli li valorizza Steven De Ronco 1 e 70 la sua quota Ruvara Rendeni fa quel che può ma ha trovato veramente un otto volante alla grande Sir Drake ancora una volta il Caterpillar sugli scudi con i propri allievi i numeri 4 6 7 Minopolimania e così parla ormai lippica linea all'oreggia